Sì, nel primo tempo abbiamo preso subito gol sfortunato, però pian piano abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una grande partita. Il mister mi ha dato grande fiducia, lo ringrazio, io do sempre il massimo per lui e per tutta la squadra. Condizione fisica sto bene, tanto che non facevo una partita, però mi sento bene e speriamo di farne tante altre. L'esordio in campionato l'ho già fatto a cava, però io metto a disponibilità del mister, poi lui fa le sue scelte, faccio trovare sempre pronto. Ha dato morale, soprattutto a fine primo tempo, ha fatto una grande giocata, molto bravo e ha dato fiducia comunque a tutta la squadra. Noi ci siamo preparati su Sarau, però sapevamo che loro potevano farci qualche sorpresa, infatti è stato così. Però la partita, loro erano molto fastidiosi in profondità, infatti ci siamo abituati subito diciamo e abbiamo fatto comunque una buona gara lo stesso.